Destini diversi per i due presunti pusher nisseni, dei quali non sono state fornite le generalità, arrestati nei giorni scorsi dalla squadra mobile. Subito dopo l'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha confermato la custodia cautelare in carcere per uno dei due e rimesso il secondo in libertà. I due erano stati fermati mentre giravano in auto per la città insieme a due donne e a un bambino di tre anni. Quando i poliziotti della sezione narcotici della squadra mobile hanno imposto loro l'alt, dalla vettura è stato lanciato un sacchetto. Gli investigatori si sono accorti della manovra e dopo aver fermato l'auto sospetta hanno recuperato il sacchetto, accertando che all'interno vi erano circa 100 grammi di cocaina. I poliziotti avevano deciso di eseguire un controllo dopo aver riconosciuto la persona alla guida, che alcuni precedenti per spaccio oltre a non avere mai conseguito la patente. Trasporto di cocaina l'accusa contestata agli indagati, con le donne che sono state denunciate a piede libero. Secondo quanto emerso dagli accertamenti sullo stupefacente, la cocaina, una volta tagliata e suddivisa in dosi, poteva fruttare un guadagno di 10.000 euro. Lo stupefacente verrà distrutto come disposto dalla magistratura. Adesso si attende che la procura chiuda l'indagine.